Benvenuti da Naro Sensei Altro giro, altra corsa Altro nuovo tutorial Anche questo fa parte della famiglia dei tutorial in cui vi spiega come pararvi le chiappe da essere spiati o attaccati da hacker da cracker, da qualsiasi cosa possibile possa darvi fastidio Bene, se dovete fare transazioni in banca in posta, se dovete guardare siti particolari se volete accedere a paesi sconosciuti scaricare magari, non so, link scaricare video, scaricare programmi accedere a cose disponibili solo nei paesi esteri o in un determinato paese Come si fa? Semplice, utilizzando una VPN La VPN è un programma che va a sostituire il vostro indirizzo i P e i vostri dati con il proprio e le VPN gratuite di solito sono delle gran truffe perché? Perché vi spiano vendono i vostri dati ad altre compagnie e fanno cagare in buona sostanza anche se sono molto 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 lente quindi navigare o scaricare è praticamente impossibile Perciò io vi faccio vedere ProtonVPN è una VPN sempre basata dai mitici amici del CERN proprio come ProtonMail che vi ho già consigliato in un altro video e serve per essere al massimo della vostra privacy Una volta scaricata l'applicazione che può essere per cellulare per pc per tutto e sapete che vi basta utilizzare una mail di ProtonMail appunto per essere connessi C'è la versione gratuita che ha qualche limitazione oppure c'è la versione a pagamento che vi dà la possibilità di accedere a tutto illimitatamente La differenza è sostanziale 3 paesi per quella gratuita mentre tutti i paesi per le versioni a pagamento un dispositivo o più dispositivi eccetera eccetera e la versione base diventa 4 euro al mese 8 euro al mese e 24 avendo cose fichissime ma se non volete spendere miliardi di euro io vi consiglio di usare quella gratuita dopo fate sempre in tempo a pagare e la versione gratuita io ce l'ho sempre installata una volta aperta ci fa ritrovare in questa bellissima schermata e mi dice tu non sei protetto questo è il tuo indirizzo IP grazie posso connettermi agli Stati Uniti dove questa connessione è abilitata alla rete TOR TOR si ne ho già parlato e comunque ne parlerò ancora Olanda in cui è possibile anche fare il P2P quindi torrent scaricare aggiornare giochi driver eccetera Giappone abbastanza inutile ma si può fare di solito le cose sbloccabili sono negli Stati Uniti mentre per quanto riguarda l'Olanda è velocità velocità pura tutte le altre regioni come potete vedere sono bloccate e potete farlo solo se pagate ma avete tre giorni di prova gratuita su questi paesi qua per sfogarvi se uno ha buon tempo può anche farsi email gratuita all'infinito e scaricare per tre giorni gratis dove vuole quindi non è neanche una cosa impossibile ok partiamo come si fa a fare bella come si fa a giocare con questa applicazione selezioniamo per esempio niderland e mettiamo connect adesso lui sta cercando uno dei server liberi e obiettivamente possiamo anche cercarcelo da soli adesso mi ha detto che sono connesso questi sono i server per quelli con scritto upgrade bisogna pagare per quelli con scritto free non bisogna pagare varrà un po' ci da quanto il server è pieno di gente e ci da varie caratteristiche tipo premium server eccetera solo per le persone ricche la velocità di connessione è molto buona perché non ve la la banda non è che viene spianata come tantissime altre VPN gratuite perciò voi adesso siete perfettamente al sicuro qualsiasi cosa fate nel pc quindi scaricate guardate internet andate su facebook fate quello che volete lui ha coperto tutto quanto il pc quando avete finito semplicemente disconnect e buonanotte una volta che fate x mi raccomando finisce qua nella barra potete anche fare in modo che parta o non parta all'avvio del computer altrimenti quit e voi siete sani e salvi ok quindi questo è quanto video di VPN ne ho fatti e ne farò tanti sempre di tutti i generi quindi state in ascolto e guardate anche gli altri video iscrivetevi e alla prossima bye bye